Buongiorno, sono Stefano Martini, Vertical Marketing Manager della business uniti industria di Ripta e con questa nuova posizione mi occuperò di seguire i progetti legati al mercato del macchino utensili, del packaging e del food, dove avrò lo scopo di trasmettere al cliente il valore delle nostre soluzioni analizzando le specifiche necessità del mercato e monitorando trend, l'orientamento tecnologico del futuro. All'interno della business unit la mia figura opererà in stretta sinergia con il Product Manager e avrà lo scopo di sopportare le richieste provenienti dal mercato fornendo la giusta consulenza per realizzazione dei progetti dai più semplici a quelli più articolati, dove i nostri clienti richiedono soluzioni tecniche dedicate. Le soluzioni offerte da retta per questi mercati sono molteplici, degli armadi di comando, ai sistemi di interfaccia con macchina, oltre al sistema di climatizzazione. Le caratteristiche che legano queste soluzioni sono il loro contenuto tecnologico e la versatilità di integrarsi all'interno di tutti i processi di nuova digitalizzazione, trend attuale e del futuro che tutti i nostri clienti stanno sviluppando. Retta, desiste, faster, better, everywhere.